Benvenuti ancora una volta qui su MTI. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace se apprezzate questo video e commentare facendomi sapere che ne pensate. Se invece fosse la prima volta iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Quest'oggi, anche se tutti mi hanno sconsigliato di farlo, voglio parlarvi di un argomento che mi ha particolarmente scosso. Si tratta di una croce in un cimitero di feti di Roma, con il nome stampato sopra di una donna che aveva abortito, senza che però avesse espresso il suo consenso alla procedura. Penso che sappiate di cosa parlo, ma in caso contrario vi lascio in descrizione due articoli. Uno del post, con la ricostruzione di cosa sia successo nel dettaglio, e uno di avvenire, che dà la visione di quella parte cattolica del paese che in tutta questa polemica sembra essere stata tirata dentro. Procedo comunque ad un breve recap, ricordando che una donna è andata per eseguire un aborto terapeutico, cioè sopra i 90 giorni, in una struttura pubblica di Roma. Al momento della firma di tutte le pratiche le è stato chiesto a voce se volesse procedere con la sepoltura. Lei ha risposto di no. Al ricevimento del referto istrologico le è venuto un dubbio su cosa avessero fatto del feto. La struttura ha dato risposte vaghe, mentre la camera mortuaria l'ha rassicurata che il feto sarebbe stato sepolto e che avrebbero pure trovato sopra la croce con un suo nome. Il resto sono solo dettagli che potete o meno approfondire, ma questi piccoli fatti bastano per aprire un vaso di Pandora così grande riguardante la privacy di una donna che non avrei mai pensato potesse succedere in Italia. Siamo in un momento storico dove si parla ancora attivamente di femminicidio e di moleste o percosse alle donne. Provate ora ad immaginarvi che cosa avrebbe potuto portare a quella che potrebbe sembrare a prima vista una mera svista della privacy. Per farlo vi aiuterò con due semplici esempi, chiarendovi anche che quel cimitero di feti è pubblico e magari chiedendo dove sia il feto, dando un nome femminile, potreste ricevere una mappa per trovarlo, se presente. Il primo esempio è quello di un marito, fidanzato fratello o padre di qualunque etnia e religione che sia estremamente geloso e possessivo e che nutra qualche dubbio su quella donna in questione. Cosa potrebbe pensare, ma soprattutto farle, se andando in quel cimitero dovesse trovare presumibilmente il suo nome su una di quelle croci? Io personalmente inorridisco al pensiero. Il secondo esempio su cui ragionare potrebbe essere invece quello di una ipotetica donna a capo di un partito di estrema destra filo cattolico che scopre di essere incinta ma non è sposata. Ok, potrebbe decidere di tenerlo e far vedere di essere una buona madre single che tiene alla vita, ma potrebbe anche decidere di abortire. Ora, pensiamo al solito giornalista ficcanaso che vuole trovare qualcosa di losco e che avvisato da una qualche soffiata vada a cercare in quel cimitero trovando il nome di quella donna capo politico. Lo scandalo che ne verrebbe fuori sarebbe devastante. Ovviamente questi esempi sono totalmente senza alcun riferimento a fatti o persone reali ma dimostrano come una non curanza così piccola sulla privacy potrebbe devastare la vita di alcune donne o addirittura di intere famiglie. Prima di concludere però, due parole sulla religione devo spenderle anche se non sono e non debbono essere il nucleo centrale del dibattito. Intanto, perché la croce cristiana? Il feto può provenire da una donna di qualunque religione? Poi, perché l'avvenire nell'articolo che ho segnalato sottolinea in maniera molto forte il fatto che la legge italiana consideri un feto sotto le 20 settimane di gestazione come da incenerire se non diversamente richiesto dalla donna ma per il semplice fatto che non ha ancora parti anatomiche riconoscibili altrimenti successivamente andrebbe seppellito come un arto amputato. Nulla di male quindi, è solo una differenziazione medica che è giusto mettere in uno stato laico come l'Italia. Per piacere quindi lasciamo la religione fuori dalla questione aborto che deve essere un diritto della donna anche per quanto riguarda le decisioni sul feto e la sua privacy. Dopo tutto questo, ho solo una domanda retorica con cui lasciarvi. Com'è potuta accadere una cosa così lesiva della privacy e della donna? Speravo di essere più sintetico, ma questo argomento mi ha colpito particolarmente e volevo dire la mia in maniera più completa possibile. Fatemi quindi sapere invece voi cosa ne pensate. Ricordatevi di mettere mi piace, di attivare la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!